Una banca, qualsiasi banca, si fonda sulla fiducia dei propri clienti. Voi date i soldi a una banca perché vi fidate. Sempre di più, guardando le sfide e le emergenze che noi stiamo vivendo come società, il riscaldamento cobbale è diventato un'emergenza. L'impegno nel settore bancario, nella sostenibilità e anche quello di ING correttamente è nato nelle grandi aziende. Sempre più stiamo offrendo ai clienti la possibilità di investire quello risparmio in fondi azionari o misti che hanno esclusivamente aziende che hanno basso impatto ecologico. Grazie. Grazie.